Eccoci nuovamente cari amici social dal vostro Deluxe, come sappiamo incombano le Olimpiadi di Parigi 2024 e quindi manca sempre meno, come dicono il titolo tutto pronto per Parigi 2024 dove ovviamente per tantissime nazionalità ci sono altrettanti atleti e atlete, per esempio l'Italia può contare su tante discipline, peccato un po' per la pallacanestro che non ci siamo né al maschile né al torneo femminile, però abbiamo il tennis, la pallavolo, l'atletica, penso il tennis tavolo, il bing pong, quindi l'importante è provare a mettere in cascina più medaglie possibili, altrettamente come dicevo anche nella clip precedente, le amichevoli dei ritiri precampionati delle squadre di Serie A come anche di Serie B, che dire, forza gli azzurri, speriamo di riempire il medagliere, noi ci vediamo alla prossima occasione, canali sapete, facebook, instagram, youtube, community, youtube, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima, ciao